Musica Amici di Unde Libera siamo a Fano al Circolo Velico di Sassonia siamo con Daniele della Santa che è il responsabile, il consigliere del Circolo Velico che adesso ci racconterà di una simpatica iniziativa legata al riuso e diciamo con una soluzione molto originale ce ne vuoi parlare? Certo certo, salve a tutti, mi chiamo appunto Daniele della Santa la cosa che è venuta fuori di questa iniziativa era di recuperare i pannelli di chiusura invernale perché praticamente erano da andare alla discarica e invece abbiamo pensato di poterli riutilizzare e come? Ci siamo attivati, mi sono attivato per, siccome qui noi abbiamo un liceo artistico abbastanza importante siamo andati a chiedere la possibilità di dipingere o di fare un disegno su questi pannelli per avvivare il circolo anche a livello invernale perché è tutto morto, tutto grigio una botta di colore andava proprio bene e quindi questa cosa l'hanno accolta molto in maniera entusiastica e hanno fatto un lavoro veramente eccezionale questo è all'interno fra l'altro di tutta questa iniziativa all'interno di una regata che l'abbiamo intitolata Over 50 che poi spiegheremo a parte magari e abbiamo avuto la collaborazione appunto senza nessuna anzi con maggiore entusiasmo appunto dei ragazzi e anche degli insegnanti e quest'anno è già il primo anno che abbiamo il pannello in chiusura quindi adesso passo la parola Bene, allora adesso passiamo all'aspetto tecnico della questione siamo con... Io sono benvenuti Anna Maria e buonasera a tutti docente del liceo artistico di Fano appunto dalla sezione di decorazione pittorica abbiamo accolto con molto piacere la proposta perché appunto i ragazzi si possono cimentare proprio anche con una committenza reale e questo è proprio un vantaggio per la progettazione che comunque c'è a monte di ogni idea che nasce e appunto in questo caso volevo presentarvi i ragazzi che racconteranno un attimo come è nato il progetto e l'idea Io sono Irene Rocchetti alunna della Quinta di Decorazione Pittorica e il progetto è nato appunto da questa committenza e per quanto riguarda la scelta dei soggetti del tema ci siamo soprattutto interessati a quelle che sono i simboli della tradizione fanese come per esempio le vele al terzo i cui stemmi erano simbolo delle diverse famiglie del luogo e anche dell'Isippo Bene Giulia Briganti praticamente abbiamo scelto proprio l'Isippo in quanto era molto importante per la città di Fano e per questo abbiamo voluto inserirlo all'interno dei pannelli e abbiamo voluto anche rielaborarlo in modo artistico rendendolo quindi anche ben inserito all'interno dei pannelli Salve sono Carlo Torreggiani e abbiamo anche utilizzato dei colori molto vivaci e soprattutto degli smalti anche per evitare la corrosione dato che è esposto in un ambiente colpito dalla salseadine dato che siamo al mare Sono Giulia Carotti abbiamo utilizzato anche delle forme che partono da forme che ricordano le onde fino ad arrivare alle forme che diventano un po' più spigolose questo per creare anche un gioco visto che il tema era anche diretto ai bambini abbiamo scelto dei colori molto allegri Mi chiamo Abiba i pannelli sono composti da 16 pannelli Abbiamo impiegato, possiamo dire, per l'elaborazione e tutto diciamo quasi due anni comunque perché è stato cominciato in terza per poi essere finito in quarta e siamo molto contenti per ciò che abbiamo realizzato perché comunque è venuto fuori un bel lavoro che ha unito non soltanto noi come classe ma anche noi al mare per ricordarci l'importanza del mare e per ricordarci anche del nostro territorio Allora, intanto complimenti per questa iniziativa sia come committente nell'ambito del riuso e del riciclo perché questa società è basata è un doppio beneficio perché i pannelli sono stati riutilizzati ed è venuta fuori una bellissima cosa quindi, anzi, ti dirò di più ti dirò di più che vengono anche a fotografarli ogni tanto, mi hanno detto Bene, allora, complimenti per l'iniziativa per l'organizzazione Grazie a te ragazzi Amici di Onda Libera, un saluto Grazie a te